Cambiamo totalmente argomento, ci occupiamo di quanto accadrà in città prossimamente per quanto riguarda gli eventi natalizi e lo facciamo ospitando Lorenzo Andreaggi, grazie per essere con noi Lorenzo Grazie a voi, grazie a voi, ciao Eva Allora perché esattamente il 16 e il 17 di dicembre, il 16 alle 21 e 15 e il 17 alle 17 e 15 al Teatro Il Parco in piazza Elia della Costa a Firenze Cosa accadrà per questo Natale, caro Lorenzo? Beh ci sarà un bel concerto, il Natale in swing perché per la prima volta parteciperò con questa band ormai famosa a Firenze questa band Jet Swing, i Talking Ties, quindi sarà una partecipazione insieme a loro e faremo tutto il repertorio di canzoni natalizie, quello più famoso da Frank Sinatra, Tim Martin, Bing Crosby, Doris Day ma anche il nostro grande, il mio maestro Narciso Parigi, canzoni in italiano sia nella versione italiana che nella versione originale in inglese Quindi insomma sarà veramente uno spettacolo per attendere il Natale nel migliore dei modi Esatto, esatto e già ci fa entrare nell'atmosfera delle vacanze natalizie Senti, cosa ti aspetti tu per questo Natale, caro Lorenzo? Beh, più pace per tutti, di questi tempi ce n'è bisogno mi sembra Senza ombra di dubbio, senti invece per quanto riguarda proprio il Natale in swing questo concerto di canzoni natalizie, vuoi ricordare anche chi sarà con te per questo concerto? Certo, i Solkintais abbiamo Giovanni Gargini alla voce, alla batteria e allo watchboard abbiamo Federico Calabretta alla voce e al pianoforte e Bernardo Sacconi alla voce e al contrabbasso e io ovviamente alla voce E senti, com'è nato questo sodalizio con loro? Beh, con Federico Calabretta per esempio ci lavoro da due anni con il concerto Fiorentino in Salotto che abbiamo girato da Toscana e non solo per oltre due anni è nata una bella amicizia e anche un grande sodalizio artistico e anche con Bernardo Sacconi ci siamo conosciuti più di un anno fa perché abbiamo fatto insieme al teatro Aurora di Scandicci il concerto con Don Bachi quindi due del gruppo li conoscevo già e ho conosciuto per questa occasione, per questa collaborazione Giovanni Gargini E allora un invito da parte tua ai nostri amici che ci stanno ascoltando, caro Lorenzo, per esserci perché sono ben due gli appuntamenti, ricordiamoli Esatto, il 16 dicembre alle ore 21 e un quarto e il 17 dicembre alle ore 17 e 15 al teatro Il Palco di Firenze in piazzeria Dalla Costa venite a vedere il concerto, a sentire e a gustare il concerto Natale in swing con le più belle canzoni di Natale scritte dai più grandi artisti del nostro tempo Grazie a tutti Grazie a tutti